Carissimi, grazie, grazie, grazie di cuore, veramente a tutti. Sono rimasto commosso nel ricevere gli auguri da parte di una valanga di persone della parrocchia, delle mie parrocchie del passato e di tutti i tanti amici che hanno voluto manifestare il loro affetto insomma facendomi gli auguri per il mio compleanno. Sono veramente commosso e ringrazio Dio per questo che è una soddisfazione, una commozione insomma e io spero di essere, come dire, sempre all'altezza della situazione cercando di fare il mio meglio per farvi conoscere, amare e servire il Signore. Ripeto, vi ringrazio di cuore e vi chiedo di pregare per me perché possa essere, ripeto, all'altezza della situazione un sacerdote come il Signore desidera. Grazie di cuore ancora. Ciao, ciao. Ciao.